È il giorno del sit-in promosso dai genitori dei bambini che frequentano le scuole di Sassa dinanzi a Palazzo Fibioni. C'erano anche insegnanti e politici. Una protesta pacifica estesa anche ad altre scuole per chiedere scuole vere appunto e servizi. Sono passati dal sisma più di 13 anni. A parte due scuole ricostruite, gli studenti aquilani ancora vanno nei MUSP, moduli ad uso scolastico provvisorio che appunto dovevano essere provvisori, ma sono diventati definitivi con tutti i disagi del caso. Strutture ammalorate dal tempo, mancanza di spazi. Il caso di Sassa poi è emblematico. C'è il progetto pronto per il nuovo polo. Da anni ci sono le risorse, ma negli anni vari intoppi di varia natura hanno impedito la posa della prima pietra. I numeri sono impietosi nonostante il comune abbia rassicurato su un cambio di rotta derivante da procedure più snelle. Io mi considero una mamma del terremoto. Il mio primo figlio ha 13 anni, è nato proprio nel 2009. Per lui tanti progetti, tante promesse e mai effettivamente una scuola fatta di muri, ma soprattutto con i giusti spazi congrui a gestire la sua vita scolastica. Quest'anno uscirà, finirà il percorso dell'infanzia e ancora alla sua domanda, mamma la mia scuola è sempre grigia, nessuno ha risposto. E poi c'è un altro problema. Nel piano di ricostruzione non sono previste scuole in centro. Un grande errore per le mamme che abitano in centro storico. Trovo inconcepibile che a livello europeo si faccia di tutto per costruire città di 15 minuti, le chiamano così, in cui tutti i servizi siano raggiungibili in 15 minuti a piedi o in bici e noi all'Aquila, dove stiamo ricostruendo da capo la nostra città, pensiamo a una città in cui i servizi siano soltanto localizzati in alcune zone. Sembra che sia normale che i cittadini del centro debbano prendere la macchina per arrivare magari al Torrione o fuori dal centro per raggiungere le scuole. Per di più sapendo che la scuola è il primo creatore di comunità e aggregatore. Se vogliamo rivivere il centro storico pensiamo che avere una scuola in centro raggiungibile senza mezzi privati, senza l'autobus sia essenziale. Lasciatemi dire che non sono un'aquilana, sono arrivata all'Aquila sei anni fa e tutti mi raccontano di un centro vivo, pullulante di vita, di interazioni. Adesso qui durante il giorno il centro è deserto, si ripopola solo la sera perché i servizi che sono stati reintrodotti sono soltanto servizi pensati per il dopo scuola, per il dopo lavoro. Noi chiediamo un centro che sia vivo a tutte le ore del giorno, che sia percorso, passeggiato, rivissuto e per farlo crediamo che la scuola sia indispensabile.